Il 20 settembre 2012, nell'ambito del progetto di scambio scolastico Comenius, la redazione di Flash Giovani ha ospitato i ragazzi dell'Istituto Salvatore Gadea di Valencia e i ragazzi delle classi quinta B e quinta E del liceo Laura Bassi. Ciao a tutti, benvenuti nella redazione di Flash Giovani. Flash Giovani è un portale del Comune di Bologna realizzato dai giovani per i giovani, diciamo che è un po' il nostro slogan. Alla redazione ci occupiamo di molti diversi temi i quali interessano tutti i giovani, diciamo che spaziamo dalla scuola all'università, dalla formazione al lavoro senza trascurare tutti quegli eventi che accadono in città e che possono essere interessanti dal punto di vista culturale, ma non solo. Possiamo procedere a dividerci in due gruppi, sei di voi rimangono qua a fare il video con Matteo, a fare le interviste con Matteo, gli altri sei vengono con me e De Leonora che vi facciamo vedere un po' come funziona l'inserimento dei contenuti dentro Flash Giovani e vi facciamo un po' scrivere di quello che avete fatto durante questo scambio. Abbiamo chiesto ai ragazzi di raccontarci la loro esperienza. Ciao, mi chiamo Alicien Guidanos, tengo 18 anni e vengo da Valencia, España. Ciao, mi chiamo Giulio Tella, ho 18 anni. Mi chiamo Paco Navas, tengo 17 anni e sono da Valencia, España. Mi chiamo Ercelia Palò, tengo 16 anni e sono da Valencia. Ciao, mi chiamo Sofia, ho 18 anni e vengo da Bologna. Hola, mi chiamo Maite Martínez, tengo 17 anni e vengo da Valencia, España. Ciao, mi chiamo Matteo, ho 18 anni, sono di Bologna. Hola, mi chiamo Melani Grueso, tengo 17 anni e vengo da Valencia. Facciamo parte di un progetto europeo come ENIUS che è multilaterale perché comprende Romania, Germania, Spagna, Italia e la lingua in comune è lo spagnolo. Infatti noi italiani siamo già andati ad aprile in Spagna, a Valencia, all'Istituto Salvador Gadea di un paesino di Valencia, Aldaia. E adesso è invece il turno del secondo gruppo di spagnoli che sono venuti qua e li abbiamo accolti. E' una bella esperienza perché si conoscono molte persone. Ya vinieron de Bologna a Spagna e ora los spagnoli hemos venido a Bologna. Es un intercambio relazionado con los bosques. Alla in Spagna fuimos a ver la Serra de Spadán e aquí iremos a ver los bosques de Italia. E' la prima volta che sono in Italia e la prima impresione che ho avuto della città è abbastanza buona. E qui mi ha gustado. È una città molto differente a Valencia. Però mi piacerebbe volvere a visitare Bologna e più città. La differenza che abbiamo trovato di Bologna a Valencia è che i istituti sono molto diversi, già che i horari cambiano molto, al igual che le classi. Non ho venuto nulla altra volta a Italia, questa è la mia prima volta e mi ha encantato. Con questo scambio ho avuto la possibilità di visitare Valencia perché non sono mai stata in Spagna e mi ha sembrato una bellissima città, differente da Bologna. Ya vine anteriormente hace dos años y estuve en Florencia, Roma, Siena y Venecia e ora sono in Bologna. Mi sembra una città molto bonita. Praticamente Valencia è stata la ciligina sulla torta perché ho visitato un sacco di città spagnoli e la Spagna mi piace moltissimo. Quindi sì, vedere Valencia è stato come il coronamento di un sogno. È la prima volta che vengo a Italia, a Bologna, e ho avuto due giorni e mi ha encantato i porti, che sono preziosi e sono molto diversi a Valencia. Tamb'è ci sono calzati di pietra e si può vedere come c'è parte antica della città. E mi ha parecato molto grande. Vim a Italia con i miei paesi solo a Roma e ora a Bologna. La città mi ha piaciuto molto. Io sono già stata in Spagna perché mia mamma è spagnola quindi per me la città di Valencia era una città già conosciuta perché vado là tutti gli anni. Però comunque mi è piaciuto andare lì perché così adesso conosco molte più persone. Con la famiglia con la che mi accoglio è stato il mio gusto, mi ha dato molto bene. Con la chica con il corrispondente sono incantata. Adesso mi è piaciuto quando vengo a Italia a Valencia quindi mi è piaciuto volerlo a ripetirlo. La famiglia che mi ha accolto è stata molto carina con me si è preoccupata di tutto e con la mia corrispondente mi trovo molto bene. Sto molto a gusto con la mia famiglia perché mi tratta molto bene al igual che io le tratté in Valencia. Sono stato accolto dallo stesso ragazzo che è venuto qua spero che si sia trovato bene tanto quanto mi sono trovato bene io a casa sua. La famiglia con la che sto si porta molto bene, si preoccupano molto e abbiamo fatto una gran amistà con la famiglia. Con la famiglia genial, sono molto simpatico e mi cuida un montone. Non sono cosa dire. Ciao!